Io ho fatto delle indagini piuttosto sommarie, devo dire, che può fare chiunque. Mi sono reso conto di quello che attualmente è la struttura finanziaria della mafia. Erano le 21.30 del 5 gennaio 1984. Aveva appena lasciato la redazione del suo giornale. Stava andando a prendere la nipote che recitava al Teatro Verga. Cinque colpi di pistola alla nuca, un omicidio che in un primo momento non sembrò di stampo mafioso. Invece, sono passati 30 anni dall'omicidio di Giuseppe Fava, giornalista, scrittore, drammaturgo, ucciso da Cosa Nostra. All'inizio si disse che la pistola utilizzata non fosse tra quelle solitamente impiegate in delitti a stampo mafioso, ma poi si indagò sulle carte dei siciliani la sua rivista. Le sue indagini, le sue accuse sulla mafia scatenarono l'ira dei boss. Per l'omicidio di Giuseppe Fava furono condannati all'ergassolo Onitto Santa Paola e Aldo Il Colano e domani ricorre il trentesimo anniversario della sua morte, una morte ingiusta per un giornalista da tutti apprezzato per il suo carisma e per la sua professionalità. Nato nel 1925 in provincia di Siracusa, si trasferì a Catania nel 1943, divenne giornalista professionista nel 1952. Sempre in quell'anno venne assunto dall'Espresso Sera, di cui fu caporedattore fino al 1980, fino a quando divenne direttore responsabile del giornale del Sud. e nel 1982 fondò il giornale Antimafia e Siciliani. Rimase al timone della rivista fino alla fine, fino al giorno della sua morte, il 5 gennaio 1984. Catania stasera ricorderà il giornalista con la manifestazione Tutti Scena, Giuseppe Fava, l'uomo e il suo teatro, organizzato dal Teatro Stabile e dalla Fondazione Fava, un modo per ricordare uno scrittore, un giornalista, un uomo coraggioso che amava il suo lavoro e con il suo lavoro da giornalista cercava nel suo piccolo di combattere la mafia. Grazie per la visione!